Ciao a tutti, benvenuti e benvenute sul mio canale o bentornati e bentornate sul mio canale. Se non vi siete ancora iscritti mi raccomando mettete un like e soprattutto iscrivetevi al canale e attivate la campanellina così rimanete sempre aggiornati sui miei video. Oggi parliamo di uno degli imperatori più discussi dell'antica Roma, ovvero Nerone, imperatore che recentemente è stato rivalutato con diversi libri che potete trovare in ogni libreria sulla sua situazione, dicendo che forse non è stato poi l'imperatore peggiore di Roma e che è stato praticamente giudicato soltanto dai suoi nemici, la sua biografia è stata scritta dai suoi nemici. Detto questo ovviamente noi oggi non andremo a parlare di questa rivalutazione storica ma parleremo di alcune curiosità che riguardano l'imperatore Nerone. Se siete pronti partiamo. Allora la prima curiosità è che Nerone non amava tantissimo i giochi dei gladiatori, detestava la violenza, lui amava tantissimo la cultura, l'arte e i giochi dei gladiatori avevano tantissima violenza, tant'è che ci furono veramente poco durante il suo impero perché lui non sopportava la violenza appunto di questi giochi nonostante piacessero molto alla plebe romana e anche alla nobiltà romana. Seconda curiosità Nerone era un appassionato della cultura greca tant'è che voleva assolutamente andare e avere il governatore della Grecia, ok? Oggi non riesco a parlare, infatti voleva essere il governatore della Grecia perché lui era appassionatissimo della cultura greca. La terza curiosità è che Nerone amava tantissimo suonare la lira ed era bravissimo a suonarla tant'è che si dice che quando c'era l'incendio di Roma lui fosse lì a suonare la lira. Anche questo fa parte del fatto che lui era appassionato di cultura greca e la lira era uno strumento molto usato nella musica greca. Un'altra curiosità è quella appunto del suo amore per atte, una liberta di cui si era assolutamente invaguito a tal punto da trascurare Ottavia che era sua moglie ed era la figlia di Claudio e la sorella di Britannico. Claudio il precedente imperatore e Britannico suo figlio. Ottavia non fu mai amata da Nerone, fu sempre trascurata nonostante lei fosse una donna ligia sia nel matrimonio sia nel nel dovere sia come persona fosse una persona eccellente. Nerone non l'amò non l'amò mai, l'ha traddito nate con diverse altre donne che poi alcune anche sposò. Un'altra curiosità appunto è quella che riguarda l'incendio di Roma. Ci sono molte persone che gli attribuiscono l'incendio di Roma. La maggior parte di noi ancora è convinto che Nerone abbia bruciato Roma ma non ci sono delle effettivamente delle testimonianze certe perché non sappiamo se effettivamente sia stato lui a far bruciare la città perché se ovviamente i sospetti vengono fondati poi quando lui fece ricostruire tutta la città soprattutto il suo palazzo in modo molto molto più maestoso e quindi la gente pensava appunto che fosse stato lui proprio per poter ricostruire il palazzo ma in realtà non ci sono delle testimonianze certe, non ci sono degli scritti certi che fosse stato lui. Ovviamente però tutte le persone davano la colpa a Nerone, nobiltà, plebe, tutti davano la colpa a Nerone e lui doveva discolparsi e quindi diede la colpa ai cristiani. Questo nuovo culto che stava nascendo a Roma che era già cominciato a sbocciare sotto Tiberio e ovviamente tutti i cristiani furono condannati e la persecuzione durò pochissimo il tempo che le voci di colpa a Nerone sull'incendio si dissolvessero nell'aria e che si parlasse appunto di questo nuovo culto e che i cristiani fossero stati quelli a bruciare Roma proprio per far valere la loro fede. Ovviamente non era così però Nerone voleva assolutamente trovare qualcuno a cui dare la colpa e trovò l'esperiente nei cristiani. Un'altra curiosità che riguarda l'imperatore Nerone è che lui all'inizio del suo governo sotto anche magari l'influenza di Seneca che era un filosofo oltre che uno stoico e di burro fondò un impero basato su delle riforme veramente ottimali soprattutto per la plebe e andò quasi sempre contro il senato addirittura diede 406 terzi ad ogni cittadino dal suo patrimonio personale quindi all'inizio il suo governo andava effettivamente a gonfie vele fu poi dopo che si dissolse tutto. Un'altra curiosità riguarda il suicidio di Nerone ci sono molte voci riguardo al suicidio di Nerone e la voce più gettonata è quella che lui si suicidò col veleno che gli fornì Locusta famosa avvelenatrice di Roma che gli aveva fornito anche il veleno per uccidere Britannico che era il figlio del precedente imperatore. L'altra curiosità riguarda appunto la fine di Britannico Nerone sapeva che Britannico soffriva di una gravissima epilessia che aveva degli attacchi sempre violenti e quindi approfittò di questa cosa per avvelenarla a una cena facendo sì che il suo piatto non venisse assaggiato e Britannico così morisse. Ovviamente era stato lui ad avvelenarlo ma fece credere a tutti che si trattasse di un attacco epilettico. Si dice che Nerone sia stato un imperatore crudele e malvagio e per alcuni versi lo è stato ma per altri è stato un imperatore che ha cercato di modificare quello che era l'impero romano di cambiare la situazione solo che poi qualcosa è cambiata in lui. Questo era il video sull'imperatore Nerone se vi è piaciuto lasciate un like e noi ci vediamo al prossimo video. Un abbraccio e un bacio a tutti. Mi raccomando se volete altri video sugli imperatori romani fatemelo sapere nei commenti. Vi voglio bene!